Oggi mi trovo a Pinerolo in via dei Rocchi, se andremo a vedere uno splendido appartamento al terzo piano di questo palazzo dietro di me, molto interessante. Ingresso, salone decisamente grande, cucina, due camere, due bagni, inoltre ripostiglio, cantina e box auto. Andiamo a vederlo. Benvenuti. L'appartamento è spettacolare, grande ingresso che disimpegna su questo salone molto grande, divisibile eventualmente in sala e stanza. Andiamo in cucina. Anche la cucina è molto bella, grande, regolare, luminosa. E andiamo in zona notte. Dal disimpegno accediamo a due grandi stanze. La casa è climatizzata con doppio split e ha due splendidi bagni. Questo è il primo. E questo è il secondo bagno. E poi c'è la camera. Anche la seconda camera, come vedete, è molto grande. Andiamo a vedere i balconi fuori. Da questo balcone vedete la posizione, molto strategica. Vicino al centro, Corso Torino, e praticamente a ridosso dei licei. Dal balcone della cucina, all'interno cortile, si gode di una bellissima vista sulla collina di Pinerolo. Vi lascio tutti i dettagli dell'appartamento nella descrizione del video. Non esitate a contattarmi. L'appartamento è davvero bello. Merita davvero vederlo. Al prossimo video.